Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, personale sulla strada per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, tra i chilometri 24 e 724, tra Empoli ed Empoli Est. Fino al 19 agosto, circolazione dei treni in sospesa tra Pontassieve e Figline-Valdarno per lavori di restyling del ponte nei pressi della stazione di Rignano-Sullarno. Muoversi in Toscana, è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!